Parto subito facendo un'affermazione. Il sapore che trovate nelle usa e getta non lo ritroverete mai in nessun liquido. Allora, oggi ragazzi qual è il tema del video? Il tema del video è i liquidi usa e getta, o meglio, il sapore delle usa e getta che ricerchiamo nei liquidi. Questo video parte da uno spunto, che poi è il vostro spunto, perché sempre più spesso mi chiedete di consigliarvi dei liquidi che hanno lo stesso sapore delle usa e getta. Oppure spessissimo mi scrivete che i liquidi che state utilizzando non sono lontanamente paragonabili al sapore delle usa e getta. Oggi cerchiamo di fare chiarezza proprio su questo argomento e per darvi, insomma, poi io di solito vi rispondo a tutti nei commenti, però cerchiamo di fare chiarezza e di fare un video, un video tutorial, che spiega questo argomento magari a chi poi è interessato a questo argomento. Parto subito facendo un'affermazione. Il sapore che trovate nelle usa e getta non lo ritroverete mai in nessun liquido. Risottolineo. Non lo ritroverete mai in nessun liquido. Quindi intanto partiamo appunto da questa affermazione. Il fatto che anche se voi cercate il liquido migliore del mondo, vi fate consigliare il liquido migliore del mondo, non sarà mai uguale al sapore che trovate nelle usa e getta. Per svariate ragioni, alcune anche oscure, perché non si conosce il contenuto esatto e la composizione esatta dei liquidi che sono contenuti all'interno delle usa e getta o perlomeno la maggior parte di loro. Io mi sono fatto un'opinione personale in merito a questo argomento e cioè che il liquido che è contenuto all'interno delle usa e getta è un liquido strapompatissimo sia a livello di zucchero sia a livello di aroma. Quindi l'intensità che trovate nelle usa e getta non lo potrete poi ritrovare in un altro liquido perché la usa e getta è fatta per durare 2 ml e di conseguenza anche se pompano a manetta il liquido che è contenuto quei 2 ml che c'è all'interno di quella usa e getta, chi se ne frega, la resistenza deve durare solo 2 ml quindi stracarico di zuccheri, stracarico di aroma ed ecco che avete la miscela esplosiva. Per quanto riguarda invece i nostri liquidi diciamo che il sapore, ovvio il sapore in sé, si avvicina tantissimo anzi se non uguale a quello delle usa e getta perché per esempio questa mela fresh, cioè questa mela verde e ghiaccio tanto per fare un esempio, ha lo stesso identico sapore di molte usa e getta. Dove sta la grossa differenza? Nell'intensità del sapore. Questi liquidi sono studiati e creati per essere utilizzati all'interno di sistemi pod mod o all'interno di sistemi con coil prefatte ok? Quindi sulle sigarette elettroniche che noi stessi, inteso come utenti, vogliamo che durino il più possibile perché ecco è questo l'altro grosso ago della bilancia. Voi dovete pensare che noi arriviamo da un'era in cui si chiedeva alle aziende di far durare tantissimo le resistenze noi vogliamo le resistenze che durino un'infinità quindi diciamo che in questi anni il settore è andato nella direzione di far durare tanto le resistenze sia a livello costruttivo della resistenza ma soprattutto a livello di liquidi liquidi puliti che non impregnano, che non sporcano, che non incrostano e quindi le nostre resistenze sono arrivate allo stato attuale a poter sostenere anche 100 ml di liquido. Quindi è stata questa la strada che abbiamo intrapreso per tutti questi anni. Con l'arrivo delle usegetta questa cosa è stata un po' ribaltata nel senso che nella usegetta ci sono 2 ml, liquido stracarico, liquido pompato non ci si poneva più il problema che la resistenza dovesse durare tanto quindi all'interno di quei dispositivi probabilmente c'è un liquido che impesta e impregna come non si è mai visto prima però alle aziende adesso non possiamo chiedergli il contrario dicendo no adesso vogliamo i liquidi che impestano, impregnalo perché noi vogliamo il sapore che sentiamo nella usegetta il discorso sta tutto qui il sapore, l'aroma dei liquidi che noi abbiamo nelle nostre pod mode, nei nostri sistemi, nelle nostre sigarette elettroniche è lo stesso, identico a quello delle usegetta quello che cambia è l'intensità di sapore, l'effetto wow, l'effetto zucchero, l'effetto esplosione in bocca quello non dovremo ricercarlo nei nostri liquidi classici per questo semplice motivo, perché questi liquidi sono fatti per far durare le resistenze e non ucciderle dopo due semplici ml se proprio volete avere un'intensità aromatica più forte quindi riuscire ad avvicinarsi un po' di più a quello che è il sapore della usegetta prendete un qualsiasi liquido, fruttato, ghiacciato, quindi dei gusti delle famose usegetta e fatelo più concentrato ovvero una boccia da 60 ml invece che portare il liquido a 60 ml portatelo a 50 ml quindi allungandolo meno con la base il liquido rimane più concentrato e quindi riuscite a sentire quel picco aromatico magari più forte con questo non vuol dire che dovete esagerare e portarlo a 30 ml perché poi dopo si disintegra il liquido non si riesce a vaporizzare cioè ci sono tutta una serie di componenti che fanno sì che poi il liquido sia inutilizzabile quello che vi sto dicendo è che se proprio volete sentire una carica più forte invece che portare a 60 ml questi liquidi fateli a 50 ml lo stesso vale anche per gli aromi il formato aroma da 10 ml invece che portarlo a 100 ml fatene 75 ml quindi siete al 15% e di conseguenza riuscite a sentire magari quella aromaticità più aggressiva più spiccata che ricercate all'interno dei liquidi per avere quell'effetto wow che tanto magari avete cercato e desiderato nelle usegetta con naturalmente l'estremo vantaggio è che state utilizzando una pod mod una sigaretta elettronica con delle coil intercambiabili un dispositivo che non dovrete cambiare tutti i giorni ma che una volta comperato vi dura X anni ok dovrete cambiare solo le resistenze man mano che si bruciano ma allo stesso tempo magari riuscite a metterci quella carica di sapore che volete nei liquidi per dargli l'effetto wow di esplosione di gusto in bocca quindi questo video era semplicemente una risposta alle sempre più frequenti domande che mi vengono fatto proprio in base a questo argomento perché non riesco a trovare un liquido che ha lo stesso sapore intenso delle usegetta non lo troverete mai non è una questione di cercarlo è una questione che non lo troverete mai i liquidi per sigaretta elettronica sono concepiti con un'altra logica non devono durare solo 2 ml non sono stracarichi di zuccheri i nostri liquidi sono invece fatti per far durare le vostre resistenze volete un po' più di aromaticità concentratelo un po' di più i liquidi da 60 ml preparateli a 50 ml finiti i liquidi in aroma invece che a 100 ml fateli magari a 75 ml così avete più carica aromatica ovvio vi dureranno anche di meno ne siete consapevoli perché è ovvio che in una boccia dove ci potete mettere 60 ml voi ne fate 50 è ovvio che quei 10 ml ve li siete ve li siete giocati però l'aroma risulta un po' più concentrato un po' più forte questo è tutto ragazzi noi ci rivediamo presto per una nuova video recensione io come al solito vi auguro una buona giornata e una buona vita a tutti vi auguro un po' più vi auguro un po' più